E anche quest'anno arriva giugno, quel magico mese in cui gli studenti si preparano per la maturità Quell'esame che punta a valorizzare la salute mentale di un individuo per la vita di tutti i giorni Ah sì, e ovviamente anche la maturità Esistono vari modi per affrontare gli esami, ma andiamo con ordine Signore e signori, benvenuti su... Esami, effetti collaterali Mi parli di un'opera di pirandello Va bene, va bene, però quando arrivo a 60 mi fermi perché ho l'appuntamento per portare il criceto in toilettatura tra 30 minuti E ho mio fratello che mi aspetta qui fuori Quindi cortesemente, va bene il fumatia Pascal? Ma come si permette, scusi Un attimo, mi scusi un attimo, mi scusi un attimo Oh, i miei esci, ci hanno posticipato l'appuntamento in toilettatura, dai Sì, guarda, ho finito, tanto le 60 ce l'abbiamo, no? Giusto? Ok, va bene, grazie, arrivederci No, ma ti pare che ti vanno a chiedere proprio quello? Ma non te lo chiederanno mai, non te lo chiederanno mai No, ma manco... Dai, dai, sì, ma seriamente Ma l'abbiamo fatto un secolo e mezzo fa, ma ti pare che adesso proprio quella cosa te la vanno a chiedere? Ma stai tranquillo, ma non guardarla neanche Una crisi in Medio Oriente, ma chi se ne frega? Mi parli della prima penna stilografica Oh, ma è molto semplice Le prime notizie riguardanti la penna stilografica risalgono al decimo secolo E comprendono una sorta di... A few minutes later Ed è per questo che nel 2019 sono fatte tutte così Wow, ma veramente? Ma questa cosa non la sapevo neanche io Ma lei è un genio La smetta E se mi chiedessero cose assurde Tipo com'è la vita di Leonardo da Vinci O chi è il presidente dello Zimbabwe No, posso farcela È solo un esame E non devo farmi prendere dal panico Ok, è stato bravo Un'ultima domanda e la mandiamo via Mi parli del presidente dello Zimbabwe Nooo Quindi, ci dica qualcosa sulla vita di Ungaretti Va bene, va bene, va bene Ma, ma come si permette Ma lei non si rende conto di quello che sta facendo Tracce Esami Maturità Indio Psst, ehi Hai l'ansia per l'esame? Eh? Sì Non sai dove trovare le tracce della maturità in anticipo? Sì Comprerei da me Solo 1000 euro Le fornisce mio padre al ministro dell'istruzione Le compro Ragazzi, è impossibile trovare in rete o altrove Le vere tracce dell'esame di maturità Quello che vi serve lo avete già Un solito percorso di studi alle spalle L'impegno, la volontà di fare del vostro meglio Ma soprattutto tante buone idee Begge 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 Grazie a tutti.